Bentornati su Ernest Channel Web TV con una nuova e fantastica puntata. Quindi oggi in particolar modo trattiamo ancora una volta un argomento sulla salute, sul benessere, praticamente dove? Nella Grotta del Sale Rosa. Di cosa si tratta? Da dove viene le proprietà? Ci informa e ci spiega al riguardo Stefania Spinosa di Castellana Grotte. Guardiamoci il video! Ciao a tutti! Il sai che di oggi è benessere, cioè parliamo di benessere. In questo momento ci troviamo nella Grotta del Sale Rosa in compagnia di Stefania Spinosa, nonché titolare della grotta di questo bellissimo Sale Rosa. Ciao Stefania! Ciao Vino! Ciao! Senti, ci puoi raccontare come nasce la storia di questo Sale Rosa? Allora, sin dai tempi antichi sono riconosciuti benefici del sale e quindi tra i tanti benefici è quello appunto di conservare, ma soprattutto anche quello come il principio del mare di portare benessere a livello respiratorio. Per questo ci sono diversi tipi di sale. Abbiamo il sale del Mar Nero, il sale del Mar Morto, il sale rosa dell'Himalaya. Questa grotta è concentrata appunto sul sale rosa dell'Himalaya e che porta appunto beneficio a livello respiratorio. Molto interessante Stefania! Senti, i benefici della grotta con il sale rosa, quali sono? Allora, i benefici sono quelli proprio di portare benessere a livello respiratorio, il che significa aiutare per tutti i malesseri che possono avvenire nel periodo invernale soprattutto, quindi raffreddore, tosse, bronchite, sinusite e entrando in questa grotta di sale, respirando il sale che si crea all'interno della stanza, si porta beneficio proprio a livello respiratorio, quindi si sente questo sale che penetra anche a livello polmonare e porta espettorazione dei muchi, porta benessere. Bene, ascolta Stefania, chiunque può entrare nella grotta di questo sale rosa o ci sono delle controindicazioni? Allora, controindicazioni non ce ne sono, in quanto la grotta è un ambiente naturale, in effetti il principio della grotta è basato proprio sul mare. Mezz'ora di grotta corrispondono a tre giorni di mare, quindi è come se anche nel periodo invernale si continua ad andare al mare con tutti i suoi benefici. In grotta può entrare dal bambino di un mese fino all'anziano di cento anni. Esiste solo questo tipo di grotta con il sale rosa o ci sono altri tipi? Allora, esistono diversi tipi di grotta di sale. Questa grotta dove ci troviamo in questo momento è una grotta con nebulizzazione del sale rosa dell'Himalaya. Praticamente da questo macchinario qui fuoriesce sale rosa nebulizzato. Altri tipi di grotte sono le grotte a secco e cioè viene, vi è soltanto la grotta del sale senza nessun tipo di fuoriuscita di sale, quindi si entra nella stanza e si respira l'aria che c'è. Poi esiste la grotta micronizzata e cioè il sale viene micronizzato e reso in polvere. Però l'unica differenza che c'è tra la micronizzazione e la nebulizzazione è che nella micronizzazione il sale viene reso polvere. Noi abbiamo dei filtri naturali che bloccano l'entrata della polvere all'interno del nostro corpo. Le prime nostre barriere sono appunto i peli del naso che quindi bloccherebbero l'entrata del sale e quindi la riuscita, il benessere respiratorio della grotta viene un attimino, diminuisce, che diminuisce. Invece con la nebulizzazione si crea una sorta di nebbiolina all'interno della grotta che penetra in maniera maggiore nel nostro corpo, infatti riesce ad arrivare anche a livello polmonare. Quindi si sente questo sale che entra all'interno del corpo e porta i suoi benefici andando a staccare proprio la formazione di muchi che si creano all'interno dei bronchioli e all'interno dell'apparato respiratorio. Bene, bene Stefano. Molto interessante tutto quello che stai dicendo. L'ultima domanda. C'è bisogno di un abbigliamento particolare per entrare in questa grotta del sale rosa? Allora, no. Si entra normalmente vestiti, quindi vestiti comodi. Nel momento di ingresso qui in grotta io consegno dei copriscarpe in modo da poter entrare anche con le scarpe altrimenti con dei calzini antiscivolo. Qui in grotta entrando anche i bambini piccoli, loro entrano direttamente con i calzini antiscivolo e possono giocare tranquillamente con il sale. infatti all'interno della grotta sono presenti diversi giochini in modo proprio da intrattenerli. In più vi è anche un televisore che nel momento in cui ci sono bambini manda cartoni animati. Nel momento in cui ci sono gli adulti che vogliono rilassarsi un attimino c'è la proiezione di immagini rilassanti con musica rilassante. Per chi decide di fare del benessere anche a livello di dermatite, perché la grotta di sale porta benessere anche per chi ha problemi di dermatite, la grotta può essere anche personalizzata e quindi entrare solo chi ha problemi di dermatite ed entrare in costume da bagno in modo che la nebulizzazione che si crea all'interno della grotta aderisca proprio al corpo e portare beneficio per i diversi tipi di dermatite. Ma dopo questa seduta in grotta uno si può fare la doccia? Allora è consigliabile di no perché il sale deve poter agire sulla dermatite e quindi portare beneficio. In effetti all'inizio si sentirà bruciare proprio come quando si entra nel mare e quindi senti il bruciore dell'acqua salata e proprio quello lo scopo che aiuta a guarire la dermatite. Quindi è consigliabile trattenere quel sale depositato per un po' di tempo e poi a fine giornata fare normalmente una doccia. Quindi quando più si tiene addosso è meglio è? Sì è meglio in modo proprio da far agire in maniera più profonda i principi del sale. Speriamo che i suggerimenti di Stefania siano stati utili e di vostro interesse e sai che può interessare o coinvolgere anche, aspetta un attimo, te! Ciao Stefania, grazie. Grazie a voi. Ciao Stefania, grazie a tutti.